Musica E salve a tutti e ben ritrovati In questo nuovo appuntamento con GameZane Sono qui ad un nuovo appuntamento con Minecraft I do BTP finalmente dopo un cazzo di mese E siamo all'appuntamento Numero E 40 40, l'ho appena visto e adesso leggerò i vostri commenti Ma E se ci fosse qualcuno che riesce Pubblicità Ma io devo iniziare subito 3, 2, 1 Allora ragazzuoli Noi eravamo rimasti Un attimo che si sta caricando il mondo Perché non entro da un mese Più di un mese Eravamo rimasti che nel nether stavamo facendo La nostra casetta E adesso io vado a leggere i vostri commenti Il tempo che finisce questo cacchio di lag Allora il primo commento me lo fa Kevin 25 mi scrive Sarebbe bello fare il pavimento in quarzo Perché è un materiale che fa parte del nether E quindi visto che la casa nel nether ci sta veramente bene Anche perché con il legno ci sta benissimo E infatti andremo a fare il pavimento della stanza del nether Con il quarzo Andiamo a prendere il quarzo Per chi non conoscesse questa mia serie È la serie principale di minecraft E questo è il magazzino imperioso Che ho Si può dire imperioso? Credo di no Però va bene lo stesso Allora Il quarzo Dovrebbe essere nelle vicinanze Dove cazzo l'ho messo il quarzo? Quarzo 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 Secondo me Vabbè intanto No vabbè dormire chi cazzo se ne fotte Intanto tu muori Secondo me È all'interno del grattacielo Se non sbaglio Di averlo lasciato qui Vabbè nel frattempo dormiamo qui Dovebbe essere qui Il quarzo Signori Mi prendo solamente un altro po' di cibo E andiamo subito nel nether Signori Oggi ragazzi voglio fare tante belle cose Vediamo se mi odia ancora qualcuno No Ah Mamma mia Che casona che abbiamo fatto qui Signori Io direi Per non sprecare i I blocchi interi Di usare I slab La glowstone Sperando di averne Non c'è Non ho La glowstone Quindi adesso devo andare nel nether A cercarla Ma prima Io direi di fare il pavimento Anzi no Facciamo tutto insieme Prima andiamo a cercare la glowstone Comunque ragazzi Voglio spostare il tavolo degli incandesimi Da lì e fare Un qualcosa di più bello Ma che cazzo di problemi avete? Ma io non vi sto facendo niente No vabbè ma non si può Ma mi state scherzando voi vero? No perché mi vogliono odiare? No perché mi vogliono male? Perché? E vabbè E vabbè E vabbè Mi prego Non mi picchiate Malamente Non mi ho fatto niente E' vero Mi ho picchiate Anch'io Ma non voglio Che mi facciate del male Io direi di buttarci Tipo Rapidamente E via 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 Verso un nuovo mondo Via Verso un nuovo mondo Ovvero La casetta Allora Io direi di mettere In ogni porta Due di questi Così la stanza Viene bella Che luminosa Poi Poi Nei bordi Altre Di queste Ok Allora intanto Cominciamo a fare il pavimento Se non erro qui sotto C'è il panico Ma perché c'è il piccone con fortuna? Ma stiamo male Proprio C'è Ma mi accontento usare questo Ma non quello con fortuna Ma che cazzo Siamo scemi Noi dobbiamo fare però Tutto con gli slab Senza morire Perché se perdo Tutte queste robe Ragazzi Veramente Bestemmi In 800 lingue diverse Che cazzo Devi fare Sì Sì Mi sa che ci sta Mi sa che il ragazzo Che mi ha commentato Aveva ragione Ci sta E anche bene Il mio problema È che sotto di noi C'è il vuoto E non me lo dimenticherò mai Anche camminando Su un blocco solido Non me lo dimenticherò mai Madonna che palle Con questo piccone Perché non mi sono portato Un altro piccone Ma perché non ci penso A un mese che non gioco Non mi ricordavo Che avevo il piccone con fortuna E che Cristo Ci metterò un anno ragazzi Quindi mi sa che faccio Un bel taglio A meno che Non succede qualcosa E via E io Devo andare a prendere un piccone Questi Che stanno facendo qui Niente Sono nuovi Sono nuovi Sono nuovi Non ce l'hanno con me Sì 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 Ok Allora Mi faccio Un bel picconcino di diamante Se non ce l'ho già E per chi non lo sapesse Io ho tre livelli Qui abbiamo I materiali D'utilizzo Qui abbiamo I minerali E i materiali Da costruzione Mentre nell'ultimo Scompartimento Abbiamo Perché mi sono fatto Del danno Abbiamo le armature E le armi Quindi io dovrei avere Un piccone di diamante Già fatto Non è vero Sono cazzate Quindi dobbiamo Andarcelo a fare Quindi nella stanza Dei materiali Dovremmo andare a prendere I diamanti Ovvero Tre diamantucci Piccone Alla mano Ok Questo lo possiamo buttare Chi se ne sbatte Non lo voglio Non lo voglio nell'inventare Proprio deve Scomparire fra quattro minuti Me ne sbatto i coglioni Tra l'altro abbiamo 28 livelli Se ce la facciamo oggi Incantiamo qualcosa Ma tutto sta a vedere Se riusciamo ad arrivare A quel livello In questo momento È l'unica cosa Che non mi interessa Devo finire questo cazzo di progetto Perché mi piace troppo Questa cazzo Ma perché ancora Ce l'hanno con me Ma cazzo Ma perché vi dovete Fare picchiare Ma me lo spiegate Guarda Là ce n'è un altro Che sta arrivando Che adesso Morirà Morirà male Guarda Guarda quante cose Ci sono qua Posso lasciare io Tutto quest'oro Ho buttato qui Tutte queste esperienze Tutte le spade Potrei anche farne a meno Giusto No allora state rompendo i coglioni E io vi metto questo Così non rompete le palle Mi state sul cazzo Non mi buttate giù la porta Golem L'hanno rotta secondo me Ma che cazzo Il problema è Ho sentito proprio La rottura Ho finito Hanno buttato giù la porta No ma sono seri Ok direi che noi Possiamo anche andarci Abbiamo il livello 30 Quindi Qualcosina la possiamo anche incantare Dopodiché Non devo tornare più nel nether Per adesso La casa È finita così Il letto non lo possiamo mettere nel nether Tu che ci fai Li maiale del cazzo Quindi un attimo Che vado a svuotarmi l'inventario In tutto ciò che ho qui dentro E torno subito Tra l'altro io qui Ho lo spazio Per metterci le cose del nether Che non ho mai messo Quindi direi Di fare Così Comunque ragazzi Arrivati a questo punto Della serie Sì ci saranno tantissime altre cose Da costruire Eccetera Ci stiamo avvicinando All'episodio 50 Che è l'episodio in cui Io vi rilascerò di nuovo la mappa Quindi potrete Giocare alla mia mappa Come i vecchi tempi Perché vi ho dato la mappa Già qualche volta Ma Ho detto che ve l'avrei data Ogni 25 episodi Perché Ovviamente in 25 episodi Ci sono tante e tante cose Da fare Ma ad oggi Proprio oggi Abbiamo fatto poco Cioè abbiamo solamente sistemato Una cosa del nether Quindi cosa facciamo Oggi Io direi Di sistemare la zona Del nostro tavolo Degli incantesimi Perché mi sta Sul cazzo Così Ma ve lo dico Con tutto il cuore Quindi Intanto prendo Il tavolo degli incantesimi Poi comincio a smantellare Tutte le librerie Perché Abbiamo 30 livelli Sì Voglio sfruttarli Ma voglio farlo In maniera Diversa Quindi Intanto abbatto tutto Sta struttura Se ne deve andare Quindi la leverò La leverò Più tardi Ma dove lo facciamo Il tavolo degli incantesimi Dove lo facciamo Dove lo facciamo Questo è un bel dilemma Ragazzi Deve essere comunque A portata di mano Allora io direi Che abbiamo Una bellissima Piattaforma Qua sopra Che non abbiamo mai utilizzato Perché non ci abbiamo fatto Un benedito cazzo Potremmo trasformarla Nella nostra E dico nostra Base Con il tavolo degli incantesimi Che ne dite Iniziamo il progetto Oggi E lo finiremo Non so quando Intanto Andiamo a scegliere I materiali Allora Visto che si parla Di incantesimi E quindi di qualcosa Di non Reale Diciamo così Dovremmo utilizzare Materiali Che nella vita quotidiana Non ci sono Qualcosa che comunque Faccia la sua porca figura Io direi Intanto di prendere I pannelli di vetro Perché Ci stanno Perché mi piacciono Davvero tanto La glowstone Non ci basta Ma ne andrò a prendere Dell'altra Perché devo fare qualcosa Cose col nether Qui non mi interessano Questi ne abbiamo pochi Questi ne abbiamo pochi Questi ne abbiamo pochi Ah un ragazzo Mi aveva scritto Che le vines Sono nella giungla Sì Però Devo andare a cercare La giungla E questo mi romperebbe Abbastanza I coglioni Poi Mi piacerebbe Utilizzare Qualche blocco Di quarzo E qualche blocco Di redstone Quindi intanto Mi prendo Un fottio di roba E anche Un po' D'ossidiana Vediamo che cazzo Esce fuori Secondo me esce Una minchiata Assurda Che potremmo Anche Utilizzare Qualche blocco Oro Di smeraldi E di diamante Sono pazzo Lo so E logico Che deve essere Una cosa A modi Spettrale Una volta Arrivati qui Noi potremmo Cominciare A Utilizzare Certi materiali Tipo questo Allora ok Intanto Facciamo Così Certe volte Le cose più semplici Sono le più efficaci E che mi piace Questo effetto Tutto così Puntellato Al di sotto Va bene comunque Ok Abbiamo Tipo recintato Il problema È che Però rimane Un sacco di spazio Rimane un sacco Di spazio Non so come Sfruttarlo Questo spazio È logico Che Sarà Alto 3 Però Vorrei sfruttare Anche i blocchi Colorati Di minerali Preziosi Che ho Ok Fatto Il Tipo secondo piano Quindi qui Possiamo chiudere E noi ci passiamo Tranquillamente Benissimo Allora intanto All'ingresso No Non so come Cazzo Devo fare Ok E contornare Tutto Con la redstone Che non mi basterà Mai Ne devo prendere Di più Ma sono dettagli Non so raga Io lo faccio Ovviamente a gusto mio E poi ovviamente Nei commenti Come solito Datemi dei consigli Su come migliorare La struttura E ovviamente Io valuterò Perché Se ritengo che Ho fatto una cazzata Rivedendolo E i vostri suggerimenti Sono più intelligenti Dei miei E ci sta E che non ci sta 6 e a half hours later E ok Ho finito il legno Mi sa che nel prossimo episodio Dobbiamo andare a cercarlo Ma tipo Incredibilmente Allora Intanto posizioniamo Il tavolo degli incandesi Aspetta Mi serve un crafting table Che io giustamente Non tengo qui A portata di mano Ma li tengo Tutti qua sotto Perché sono un genio Quindi devo andare Per forza Qui sotto Per fare tutte le cose Ma questi sono dettagli Ma io abbatto Gli alberi che c'ho qua Tipo questo Ma chi cazzo Se ne fotte Ma proprio Va bene Intanto cominciamo A posizionare il tutto Perché mi sono rotto Le palle Io vorrei fare Il tavolo degli incandesi Proprio lì di fronte Perché tipo Che cazzo ne so Entri E c'è il tavolo degli incandesi Così Adesso dovrebbe essere completo Il tavolo degli incandesi Eh Sì Fa livello 30 E noi visto che abbiamo Tot livelli Ci spariamo Un'efficienza 4 Indistruttibilità Che è una cosa Veramente assurda E ci serviva Comunque un piccone Devastante Ok Abbiamo l'ultima Cosa delle librerie Che io direi di conservare Perché Non ci interessa E qui Di fare Così Così Dov'è E Così Ci può stare Ci può stare Dovrebbe starci Dovrebbe starci Ma forse sopra Dovrei fare Tipo una cupoletta Che cazzo ne so Una Boh Non lo so Un qualcosa Un qualcosa Di Bello e figo Da vedere Ma non ho niente in mente Quindi Va bene in quella maniera Certo qui dentro Io lo vorrei fare Tutto in smeraldo Ma lo finiremo Un giorno Molto lontano Quando riusciremo a trovare Un miliardo Di smeraldi Anche se abbiamo I villageri Potrei fare gli scambi Va bene ragazzi Come al solito Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto Questo nuovo video Come al solito Vi ricordo di iscrivervi Mettere mi piace E commentare Arriviamo a 100 mi piace Per il prossimo episodio Ragazzi Questa è la mia serie preferita Quindi arriviamo A 100 mi piace Se volete il prossimo episodio Un saluto da Zayn Ciao Ed è spawnato lo stesso Figlio di putta No Che cazzo mi stavo bevendo No 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 Porca puttana Di tua mamma Ciao Ciao